Oggi è una giornata molto importante a Fara di Soligo, è una cerimonia dedicata alla misericordia, alla pace e in particolare per la benedizione di questo olivo. Dalla Terra Santa a Fara di Soligo per questo evento, eccellenza. Cosa si sente di dire a questa comunità? Sono tante occasioni veramente, le ricordiamo un po', però la questione principale è che sono venuto per presentare il libro su Papa Luciani a Fara di Soligo. Sarà molto bello. In questa messa abbiamo ricordato la misericordia che è la riflessione centrale del Vangelo, naturalmente. Abbiamo parlato della pace della Terra Santa, di cui ha bisogno tanto la Terra Santa e abbiamo piantato questo albero qui, l'olivo della pace. Ci sono tanti temi che tutti girano intorno alla questione della misericordia e della pace, di cui il nostro caro Luciani è stato un eroe, è stato un grande uomo, è stato un testimone, è uno strumento di pace e di misericordia per la comunità e per il mondo intero.